Ciao amici. Allora, faccio questa puntata che non volevo fare, non è vero, perché ho bisogno di attenzioni. Rispondo a una domanda che viene fatta nel podcast di Steph Kirian, nella puntata in particolare del 22 gennaio 2021. La puntata si chiama Ce n'era davvero bisogno? Ce n'è davvero bisogno? Stagione 2, puntata 18. Si trova su Spotify e su tutti i siti di podcast, ve la lascio qua sotto. Quindi voi ascoltate prima quella, poi tornate qui nel video e continuiamo a parlare. Fatto? Beh. Allora, la domanda è questa. Facciamo che Mario fa questa domanda. Un nome fittizio perché non mi ricordo il suo nome. Mario chiede, c'è davvero bisogno di giocare a giochi vecchi? Ci sono così tanti giochi belli, nuovi, innovativi, incredibili, bellissimi, Not The End, Blades in the Dark, D&D 5 se vogliamo, Pathfinder 2. Perché bisogna, c'è bisogno di giocare a qualcosa di vecchio? Per rispondere a questa domanda, Steph parla di alcuni argomenti sicuramente condivisibili, io volevo dare una risposta un po' diversa, cioè più che altro completare la risposta. Perché quello che non mi piace un po' dei podcast su Spotify, eccetera, è il fatto di non poter commentare come si fa su YouTube, cioè di fare una discussione, un discorso, rispondere. Quindi rispondo qua e faccio prima, in sostanza. Quindi se volete, anzi, voi mettetemi poi i commenti qui sotto e parliamo qua sotto, insomma. Allora, la domanda è interessante. Secondo me, per dare la risposta bisogna pensare a che cos'è un gioco. Vi do la mia definizione, che forse è un po' scorretta, più che altro sto saltando alcuni passaggi, è più complicato di così la definizione di gioco. Ci sono filosofi che ne parlano per cento anni, homo ludens, eccetera, per intenderci. Un giorno potremmo parlare anche di questa cosa qui. Che cos'è un gioco? Allora, ve lo siete mai chiesto che cosa vuol dire giocare? Giocare vuol dire, secondo me, sempre stringato, poi approfondiamo un giorno, darsi delle regole per raggiungere un obiettivo. Le regole non sono assolutamente necessarie per raggiungere l'obiettivo. Vi faccio un esempio, se io vi dico, lo scopo del gioco è portare un pallone in una rete. E voi direte, beh, il modo più semplice è prendere il pallone con le mani e correre e portarlo nella rete. Giusto? No, non potete toccarlo con le mani, potete toccarlo solo con i piedi. Non è più semplice toccarlo con i piedi, il pallone, ovviamente, è più facile portarlo a mano. Ma creando questa regola assolutamente non necessaria, si crea il divertimento. Cioè il divertimento viene scaturito da fare una cosa in maniera un po' complicata e diversa. Perché rende, magari, più competitivo il fatto che si vede chi è più bravo di un altro a utilizzare i piedi, ad esempio. Questa è una cosa banale. Questo è importante per definire il fatto che il gioco non è utilitaristico. E questo è il secondo punto importante. Cioè il gioco non è una tecnologia. Il gioco è, se vogliamo, fa parte dell'arte. Cioè di qualcosa che non ha un'utilità diretta. Associato a questo argomento, pensiamo a... Se fosse tecnologia un gioco di ruolo, giustamente uno direbbe, beh, un gioco all'ultimo è uscito. Perché è indubbiamente quello più avanzato. Esempio, ho un frigorifero degli anni 70. Perché non cambiarlo e prenderne uno nuovo? Perché sono povero. Ottimo motivo. Ma altrimenti non c'è nessun altro pro. Cioè funzionano peggio, sono più inquinanti, più pericolosi, più rumorosi, raffreddano meno, sono meno belli da vedere, se vogliamo anche. Quindi un frigorifero moderno, avendo un'utilità e un utilizzo in cui essere migliore di qualcos'altro è importante, è assolutamente, diciamo, on point. Ci siamo. Stessa cosa possiamo... Stesso discorso lo possiamo fare con un telefono, con un computer, con un'automobile, anche se lì già ci sono le preferenze personali, un po' artistiche, se vogliamo. Ma nella musica, nei giochi, nell'arte, quella che noi comunemente chiamiamo arte, nella scultura, nella pittura, non è necessariamente una cosa moderna a nostro gusto è migliore. Perché l'arte deve piacere, cioè deve essere appagante per il soggetto. Quindi deve avere delle caratteristiche che mi portano un godimento. Non necessariamente le caratteristiche moderne sono migliori delle caratteristiche vecchie. Vecchie, ok? In alcuni casi sì, alcuni giochi sono assolutamente superati, siamo d'accordo, soprattutto nei giochi in scatola questa cosa succede. Ma non è detto che un piccolo riammodernamento delle regole di un gioco vecchio non lo renda appetibile per il pubblico moderno. Ed è questo simile al discorso che fa Steph parlando di musica, in sostanza. Lui dice anche, è importante capire le origini. Questo sicuramente può essere uno stimolo per scoprire i vecchi giochi. Però non è detto che, ecco, che un gioco vecchio non sia divertente. Questa è la cosa importante. Cioè, se è divertente, che sia vecchio, nuovo, antiquato, che problema c'è? Gli scacchi esistono da un sacco di tempo. Un giorno farò un video sugli scacchi, nel quale raccontiamo la storia degli scacchi. Che è facile, perché avendo talmente un'origine antica e persa nel tempo non si può sbagliare. Posso dire quello che voglio. Ed è abbastanza vera, in verità. Comunque sia. Ad esempio, gli scacchi è un esempio classico di gioco molto vecchio, ma comunque molto attuale, perché è divertente, ok? È stimolante. Allo stesso modo, i giochi OSR sono divertenti, sono stimolanti, sono un modo diverso, che si è perso nel tempo. Quindi, giocandolo adesso, vedo una roba che i giochi moderni non propongono. Quindi mi dà quel senso di novità. Poi magari mi stufa rapidamente. Ma anche i giochi moderni mi stufano rapidamente. E su questo ci sarà sicuramente un altro video sul perché smettiamo di giocare alcuni giochi. Cioè, ho giocato a D&D 3.5 per dieci anni della mia vita, ma adesso non ce la faccio più. Però, se D&D 3.5 uscisse adesso e tu non ci avessi mai giocato, magari ci giocheresti per altri dieci anni. È solo... cioè, ti ha stufato il gioco di tipo di stampo vecchio perché hai giocato a quello per tanto tempo, non perché non sia divertente in senso generale. Ok? Spero di essere stato chiaro, spero di aver risposto anche a Mario. E niente. Quindi, spero che qua sotto qualcuno mi lasci le sue impressioni, mi faccia sapere cosa ne pensa, se aveva mai pensato a questi aspetti dell'artisticità del gioco. Oppure mi dice, no, il gioco è utilitaristico, perché ha questo scopo e deve essere raggiunto nel modo più veloce e rapido possibile. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.